Non credere che remare su una barca, col peso degli anni sulle braccia, su una barca che rischia di affondare, sia la gloria o la vita, è soltanto la paura lontana che quel fiume possa anche travolgerci nel cuore. Il sentimento non è mai parola e nemmeno pietà, ma solamente un grazie della vita che domanda se l'amico sia vero o solo un sogno. Grazie per la visione!